Adesso ci stiamo dirigendo a vedere le tombe etrusche, avemo chiesto il permesso ai signori della casa, del terreno. Ecco, lo domandiamo pure con l'uomo. Le tombe etrusche. Ciao signora, le abbiamo domandato alla famiglia qua, se possiamo ripiare con le tombe, però ci ha detto che c'è due capri. Eh, ci potete dire dove stanno? Dove stanno? Dove si trovano queste tombe? Ah, là? C'è un po' là? Non so se è chiuso, è chiuso il cancello. Ha detto che dobbiamo stare attenti a due capri. Ho capito, ho capito. Allora un attimo ci andiamo. Siamo nella necropoli etrusca, qui da Civitavecchia. Adesso andiamo a vedere le tombe. Le tombe etrusche, come dicevo un attimo fa, abbiamo chiesto l'autorizzazione ai proprietari della terra, perché qui c'è scritto proprietà privata. È tutto privato. Però ci hanno detto entrate, fate come volete. A posto. Persone gentili, eh? Adesso bucamo Trento. Dai, diamo un po' vedesse tombe. Due seprotezioni dei cancelli per non cascarci dentro. Eh, ce l'ha? Allora, se prosegue? Ah, la torcia. Se vuole la torcia, ha dei tali angosti che ho dentro lo zaino, dentro la macchina. Chi ci pensava, vedi? Non ci penso mai io. Avevo qui dentro. Che è tutto un filo di ferro pericoloso. Allora. C'ho un accendino, Matteo. Ah, finisce qui, finisce. Eh, no, miseria. Che frescume qui sotto. Peccato che finisce qui, sta tomba. Oh, oh, cos'è? Oh, un bigatto, un tenamà. Guarda un po' cosa c'è qui. I porchi di Sant'Antò, guarda. Eh, no, miseria. È una colonia dei porchi di Sant'Antò. Chi invece ha una radice attaccata su, sa un po' di polvere e ragnatela. Un buco. Ma un po'? La tomba. Io sto all'interno della tomba etrusca. Pensa un po' chi c'era i etruschi sepolti. Eh. Vado su un'altra volta per vedere quell'altra. Devo camminare piano perché ho la ferita nel fondo schiena e mi sta facendo male, purtroppo. Eh? Stavo meglio prima che mi ferissi, insomma. Ah, qui c'è una fossa comune che è enorme che tanto sicuramente col tempo è... Federico, com'è laggiù? È immensa. Questa è grandissima. Vieni. Si estende? Eh, beh, sì, saranno 20 metri in profondità. Ah, però c'è la... si vede perché c'è la luce che penetra. Allora, dai, Luca, andiamo giù. Vabbè, c'è tre capri che stanno a guardare. Ah, tre capri. Mi piacerebbe carezzarli. Ha detto che non c'è fa niente. C'è un punto luce però, la... ah, le scale che vanno su dall'altra parte, vedi? Oh, lo sai non te lo metto. L'ha la mano? Ah, ah. La scena è terminata. Eh, oh, oh. E' una miseria. Ne sa che... Oh, ne sa... Perché ci si mette le capri qui sotto, vedi? Come si chiama lo scherno? Come si chiama? Sterco. Lo sterco, vedi che mi confondo sempre. Ah, qui c'è un portico. Che mamma, mi sa che roba. Quante grosse... grande questa tomba. Ora, pure qua c'è... Un'altra tomba. Oh, qui c'era due etruschi morti qua. Ora, vedi? E' anche lì sopra. Anche lì sopra, guarda qui. Vedi? Leva un po' la testa, Luca, che si vede bene. Il cameraman inquadra adesso. Vedi, vedi, mi piacerebbe avere un cameraman privato a me. Però chi troppo vuole... Oh, come si dice, chi troppo vuole non la stringe. Quindi vado avanti ai cusci, nella meglio è peggio, però niente non è. Eh? Guarda un po' che roba lì, tutta vellutina. Cos'è vellutina questa qui? Perché è verde. Guarda un po' Luca, wow. Questo è polvere, che toglie la polvere viene più verde. Il coso che c'hanno sopra a duemila anni, perché se era prima dei romani... Eh sì. Prima dei romani. La civiltà etrusca nasce nel ottavo secolo avanti Cristo, la prima civiltà etrusca. Eh, quindi immaginiamo... Poi ciolisce nel quinto. Eh, quindi questo c'erano i 2.500 anni. Ma ci pensiamo? 2.500 anni di grotta ancora regge da tutti i terremoti che c'è stadi e tutto. Pensa alle costruzioni di una volta quanti erano efficaci. Tanto questo è scavato nel terreno qui. È tufo, questo è tufo. Quindi è tufo resistente ai terremoti. Ma questo siete sicuri che è tufo? Questa è roccia. No, no, è tufo, è tufo. Aspetta, fa un po', vedi chi? C'hai ragione perché si sgranella. Però è duro, è un tuffo duro. C'è il tuffo morbido e quello duro, vedi? Questo è duro, eh. È una miseria. Però è bello, è emozionante. Senti che rimbombo... Mezzicampi... Che rimbombo... di... vocale che c'è qui dentro qui. Chi sa quando le hanno scoperte, oppure si è sempre saputo. Questa pensa che negli anni 40, durante la guerra mondiale, le usavano come rifugio. Perché per nascondersi dai bombardamenti si rifugiavano qua sotto. Per proteggersi dalle bombe. Ma le hanno scoperte saccheggiate già da tempo. Guarda un po' qui sopra. Qui chissà se c'era un morto. Dopo col tempo si è rosicato tutto. Saccheggiate perché cosa ci mettevano? Il corredo funerario. Oh, un pezzo di ferro. Antichissimo, guarda. Forse ce l'hanno ficcato un del tempo della guerra. Forse prenda su, petta a casa prenda su. Ti pensa un tempo cosa ci saranno stati qui dentro, quanti morti etruschi ci saranno stati qui sotto. E se uno scava chissà cosa troverà qui. Tanto la terra col tempo aumenta e viene seppellito quello che c'era sotto. Dici, dici che sotto c'è qualcos'altro qui. Ma certo perché questa terra si è mucchiata coi anni, 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 millenni addirittura. 2500 anni chissà quanta terra c'è andato del materiale qui. Vedi che tanto tra le polveri che mucchia col tempo tanto materiale. Tra tutta la rubaccia che ci hanno buttato la gente. Quindi il pavimento originario dici che va sotto secondo te. È molto più in profondità perché qui le tombe sono molto più alte. Questa già è tantissimo. Ci pare chissà quanta è alta, ma se tu vieni qui con un trattore e scavi, chissà quanta profondità va giù. Sì. È certo perché tanto sicuramente era molto più alto. Tanto il materiale in qualsiasi luogo e struttura dei crootte che sia col tempo dopo i millenni si solidifica tutta la rubaccia che c'è dentro. E forma una pavimentazione, capito? Uno spessore. Infatti che non c'è bisogno che lo dico io se cavolate qui perché se sa. Si ma calca qua non le sa nessuno, le sa gli addetti lavori. Ah. Vabbè comunque nella miniera dove sono andato in Sardegna. Eh. Nella miniera. Adesso sto contro luce. Il camera mi inquadra con la luce di fronte e si vede meglio. Nella miniera che sono andato in Sardegna. Lì si vede proprio in quel luogo, in quel villaggio, si vede proprio che tutto il tempo, questi 40 anni di abbandono che c'è stato lì in quel luogo, il materiale roccioso delle montagne che c'è l'intorno, siccome ha franato la montagna e è venuto giù pure un torrente che sicuramente chissà quanto buttava un tempo nei anni 70, è venuto giù talmente tanto materiale che ha sotterato la maggior parte delle cose che c'era in quel villaggio. Quindi si vede che il materiale si è alzato a 10 metri circa. E le ville, le case, la villa del padrone, tutto sottoterra. Solo i muri maestri e tutto quello. Dopo vedete il video se ve ne va. Se siete interessati guardatelo. Sardegna miniera in Sardegna. Non so che titolo preciso ho messo però andate a guardare se ve ne va. Mi fa piacere. Grazie a tutti. Guarda un po'. Guarda un po' chi? Chi ne sa di menta selvatica chi? Una scarpa mucicata dalle pantegane, dai sorci. Infatti lì c'è un buco c'è. Guarda un po'. Mi trovo dentro un'altra tomba. Qui si vede che il materiale ha fatto spessore. Guarda. Guarda lì quanto ce n'è di terra. Questa è la terra delle piogge pure da un tempo che pioia tantissimo e veniva giù tutta melma dalle scale. C'è lì? Si finisce qui però c'è un sacco di buchi. Cosa significa? Perché il materiale di quanto è venuto giù ha riempito tutti i involucri in due che teneva questi scheletri, questi morti. Sicuro. Allora ritorno su dai che è pieno di polvere va. Allora Luca tendo vai da là. Qui ci sono i sepolcri eh. Ah eppure. Qua ce n'è un'altra? No. Forse c'era. Vai dritto là. Guarda che c'è un letto. Primo piano guarda la centrale. La centrale qua. Qua si vede in tutto qua. Chi sa quanti operai ci avrà lì. Luca è profonda? No, no, no. Adesso vado da qua io. Ah questi i sepolcri. Vedi? Vedi se... Eh? A destra e a sinistra venivano adagiati i corpi. Eh eh. Direttamente lì. Questa invece è una tomba a fossa perché è scavata come una fossa, come le nostre tombe. Questa cioè è pronta oh. Eh sì. È pronta ma è stata usata, basta no? Basta, non c'è ponda più i morti. Niente. Sì, c'è ponda però a me non me ne aveva andarci. Eh. Allora vai giù un po' lì, vai giù. Però prima lì. Lì? Qui non c'è seponda giù. No, no, finisce qui. Questo è un sepolcreto eh? Eh sì. Questo è un altro sepolcro. Questo è un sepolcreto invece. Quindi cosa significa? Vai giù, mettevi i morti di qua da là, vai un po' giù. Dai. È basso oh, perché quella volta erano molto bassi. Eh, c'è poco da andare giù eh, guarda un po'. Due morti. Niente, niente. Finisce lì. Guarda un po'. Qua c'è nato un albero. C'è nato un albero di... Di fico. Eh, fa un po' andare giù lì. Devo boccando in questa tomba, chi? Un albero come fai a boccando? Bocco dentro lo stesso. Sì? Sì. Puzza di gatto, di sgrizzo. Di gatto in calore, puzza. Vai un po', i fichi oh. Vai un po'. Vai un po', vedi. Eh, buono oh. Guarda le formiche. Mmm, buono. No, mi è boccascato per terra. Eh, guarda lì. Pure chi il sepolcro? Ho mangiato un fico rosso un bel po'. Capito Luca, ho mangiato? Ho mangiato un fico. Sì? Sì? Un po' di poca giù. Eh, questo è più largo eh, guarda. Certo che mi meraviglia il tempo e degli anni che si sepolcri e tombe. Qua hanno tappato sal alle rocce. E' tutti uguali eh, finisce lì. Vedi? Sì, destra e sinistra li depositavano. Guarda un po', adesso un po'. Se casco qui mi spacco le gambe. Ecco. Guarda chi è sotto. Guarda chi è sotto, chi c'è una grotta. Porca miseria. Chi c'è? C'è nessuno? Arda il materiale che c'è andato a finire. Qui devo usare la torcia. Devo usare la torcia, però finisce lì? Non mi sa chi... Chissà le tarantole che c'è. Le tarantole. E chi mi gustaria andare giù. Niente, devo andare a prendere la torcia. Che c'ho. Oh, qui è l'unica che continua a grotta. C'è una grotta qui. Me ne immaginavo. C'è una catacomba. Oh, chi va giù? Continua in profondità. Qua niente. Eh, le va le capri, va. Lì finisce lì, è un sepolcro. Sì? Sì, sì. Già c'è sul nado prima qui. Qui no. Ah no? Pericolosissimo. Finisce lì. C'è un sepolcro. Cos'è? C'è i mortici. Eh? C'è i mortici. Ah no, no. È le rocce scure che pare un cranio sbudellato. Allora, là c'è una grotta Federico. Io devo prendere una torcia di tali angosti. C'è una grotta là. La torcia è tutta. L'unica più lunga è quella là. Però c'è un sacco di ragni. Questa voglio vedere un attimo se si stende. Quale? Eh, voglio vedere dai. Un po' le capri. Belline. Eh? Sì, sì. È fuggito. Io ho messo paura con le pori. Guarda le cure. Purine. Questi tutti bassi. Addirittura qui guarda l'acqua che ci ha stagnato. Guarda un po' l'acqua. Guarda che roba. Lì invece c'era un ossario, vedi? Sì, sì, sì. Un ossario. Io ti rendi conto, uno pensa solo, le anime di coloro che hanno fatto questi lavori 2500 anni fa. Pronta la roccia eh. Laggiù è un tantino di tuffo però la maggior parte è roccia. Guarda. Tocca. Questa è roccia eh. Sì, sì. Nella roccia hanno scavato con i scalpelli e i martelli. Pensa tu. Roccia tuffacea. Dai devo buccare là. Oh, là? Dali hai visto là? C'hai visto là? C'hai guardato? No, no. E una miseria che roba. Oh! Un altro sepolcro. Gli zombie. Vedi lì? Non si vede niente. Guarda, guarda. C'è nato un albero, un telescale. Ecco, mi va. Oh! Guarda un po'. Un altro sepolcro qui. Di zombie. Sì, finisce lì questo. Finisce lì. L'unica cavità più profonda che si estende in tanti è là. Allora è sfondato il tetto. Sì, sì. Eh. Allora niente, io devo assolutamente arrivare alla fine di quel sepolcro. Obbligatorio. Obbligatorio, sì. Dopo infatti non ci venimo più in vita nostra. Quindi, dai. Se non ci morimo prima però. Ci fanno puoi vedere. Tanto chi c'è, le tombe c'è, basta riempirle. Allora. Vai, vediamo un po'. Aveva la piazza torcia e bocco dentro chi? Oh là, là. È là, è là. Questo è un altro sepolcro. Guarda che roba. E' una miseria. Eh, questa Luca è interessante. Pesce bocchi? Questo pare un sepolcro. In realtà è una catacomba, si stende fino a là. Questa? No, quella finisce lì. Finisce lì. Oh, qua, qua. C'è qua, oh. Qua hanno recintato tutto. Deve essere che o si stende oppure c'è una pozza. C'è una pozza. Chissà perché hanno recintato tutto. Allora. Vado a piazza torcia, va. Qui, qui. Qui c'è. Fa un po' vede. Fa un po' vede. Sì, questa finisce lì. Perché? Vedi che si stende? Non pare che hai visto qui. Sì, lui sta prima questa. E' un po' piramidale. Sì, lui sta prima, guarda. Questa, lui sta prima. Sì. Sì. E' piramidale, eh. L'unica, l'unica più interessante che si stende, Federico, ci dov'è andare a tutti i costi, è quella lì. Dev' andare lì perché si stende per 20 passametri. Bene. Capito? Però devo prendere la torcia a tutti i costi. Non prendere la torcia? Eh, là la macchina. Aspettate là. Vabbè. Aspettiamo qui, eh. Vabbè, vabbè. A quei signori là i proprietari gli hanno detto 5-10 minuti, ma è passata mezz'ora. Oh, un osso. Un osso fossilizzato, guarda. Etrusco. Un osso etrusco fossilizzato è diventato un mattò. Eeeh. Questo c'ha 2.500 anni. De cos'è di una clavicola? Vedrai. De cos'è? La spina dorsale. Si vede proprio, vedi qui. Vedi? Si, oh. E' un osso umano questo. Eh si. Si è fossilizzato dopo l'acqua, l'ha incrustato, l'ha bugato, vedi? Ma è già i buchi, già gli ossi, già i buchi. Si, si. Perché è tutta... Provi a soffiare un osso, chissà di chi era, di un uomo o di una donna. Passa all'aria. Quindi? Eeeh, filtra, vedi? Filtra, si. E' diventato tipo una cozza che filtra. Allora, adesso, guarda. Adesso mi metto questa torcia qui. Questa sempre me la devo tenere appresso. Non è che la sullo zaino a chilometri e questa la la sulla. Non va bene. Allora, come se se streggia questa? Allora, adesso vado con la tomba principale che si stende chissà per quanti metri. Mi auguro che si stende per chilometri. Però quando scappo fuori, non potesse pure che c'è il crepo. Mi auguro di no, dai. Mi ha pizzicato l'urtica, un macello. Guarda lì le bolle. Dai, vado giù, va. Guarda un po'. Guarda un po', Luca. Chi? Chi? E' il K2 dovevo portà? Guarda, guarda. Guarda, un altro osso. Quei può essere pure degli animali, però. Può essere pure delle bestie qui del campo. Allora. Questo che cos'era, Federico? Questi piccoli quelli. Questi per gli ossi? Per gli ossi, dai. Sempre fosse queste sono. Oppure per neonati, perché ne morirene tanti quella volta. Ci, oh! Dai, dai. Grazie, cameraman, adesso. Se puoi riprendere, vado giù, dopo riprendo la videocamera e entro dentro. Allora, fa un po' vedere. Qui c'è gli spini degli istrici. Può essere pure che chiappiamo un istrici e ti dice, spara gli spini. Sì, addosso. Può essere una dana. Dopo, crepiamo. Ora un po'? Ora un po', l'è lungo. Eh sì. Ti spara questo, ti vanno in occhio, ti cieca, ti infinza il cervello e crepi. Ah no. Sì, questo è un istrici. Qui dentro forse c'è istrici. Eh, adesso accendo la torcia e bocco dentro, vai. Grazie. Grazie, cameraman. Allora, vediamo un po', quanto si stende. Chi è stretto? Mamma mia. Pare il buco del diavolo. Oh, la tarantula! Una tarantula! Guarda un po', le fugge. Si è ficcata sopra. E questa se me moccica la tarantula. Diventa Spider-Man. Allora, vediamo. Oh, che tarantula! Che tarantula, guarda chi! Eh, bisogna togliere le tarantule. Chi ha fatto pure una cova? Eh, guarda lì, è nera, sta tarantula! È un porco di Sant'Anto lì, ficcato. Chi sotto a cui c'è? Un cucciolo. Un cucciolo. Dopo qui, una d'altra tarantula. Guarda un po'. Eeeh! Che luce che c'ha sta tarantula! Guarda, oh! Gli riflette la luce e cade l'infrangente. Allora, adesso io qui, c'è una ragnatela enorme. De la devo spaccare, sta ragnatela. Dopo gli do il lavoro al ragno, dai. Ragno, lavora, dai. Lavora un po', va. Lavora un po'. Adè, questo forse mi salta addosso sul ragno. Guarda un po', è una miseria, mi viene la testa, mi viene la tarantula! Guarda un po', in mezzo c'è? In mezzo c'è qualcuno, un insetto, dai. Adè, butto le... Chi ce voleva il fuoco? Buttavo dentro tutto il fuoco e le tarantule non mi si attaccava addosso. E' una miseria, che roba! Eeeh! Guarda un po', un altro ragno, una tarantula in mezzo, guarda! Ora che bella ragnatela! Mi dispiace romperla, però fa un po' vedere se stende sta grotta qui! Eh, mi dispiace tarantula, dai! Te do un po' di lavoro da fare, dai! Tanto per fare una cosa così! Vedi, questa è una gabbia, un ingabbiamento per mangiare! In modo che in sé ti si attacchi niente la tela e il ragno magna! Adè, però, lo sta un po' a diciuno, dai! Eh, lo stacco, un attimo! Lo stacco, guarda! Eh, lo ha che si ficca sopra! Questo mi salta anche la testa, mi salta! Mi salta anche la testa sul ragno! Cosa c'è chi? Un ciccio! Un ciccio! Guarda un po'! Vediamo! Un'altra tarantula! Ora l'è grossa questa! Fatti fi! Ha parturito! No! Ancora deve parturì! Ancora deve parturì! Allora la stacco! Se ficca... Ah! Addosso! Vai Luca, via giù! Ci vieni che c'è un sacco di tarantule? Mamma mia che roba! Eh, lo ha il buco dell'istrisce! Guarda! Eh! Guarda lì! Guarda lì quanto è profondo qui! Non tre e due tarantule! Pfff! Eh no! Mi sa che puzza qui dentro! C'ha gli ossi oh! C'ha gli ossi! Eh! Le tarantule! Guarda quante ce n'è oh! Tutto è attaccato adesso guarda! È pieno di tarantule qui sotto oh! È pieno di tarantule! Ci vieni ciò? No! No? Perché? Ci vieni ciò? Guarda un po'! Quanto è profondo ancora! Eh! Arriva là però c'è un sacco di tarantule capito! Non me ne vado a rischiare da diventare Spider-Man! Oppure se divento Spider-Man è meglio! Eh! È meglio! Vado a fare il supereroe in giro salvo la gente! Allora fam po' vedere! Guarda lì dove si attacca sta tarantula! Guarda un po' come se ficca su! Eh no miseria! Guarda! Si vede ancora quando hanno lavorato per fare questa grotta qui! Sta cavità! Eh! Le ciccia! Le ciccia! Guarda! Che tarantule! È pieno di tarantule! Oh io vado eh! Guarda un po' che buco qui! Chi c'è io? Eh! Guarda qua! Porca miseria! Come si stende! Questa è una catacomba proprio! Guarda oh! Adè vado oltre! Voglio vedere quante tarantule c'è! Chi c'è la melma eh! Chi c'è la melma! Senti che puzza qui dentro! Chi c'è? Eh! Posso? Guarda un po'! Eh no miseria! Non c'è se può credere! Non c'è se può credere! Non c'è se può credere quanto si stende! Ah! È finito qui oh! È finito qui! Ah! Cioè non c'è più niente qua! Di un'altra parte? No no! È finito qui! Però si stende una decina di metri buoni! Un'altra tarantula! Eh! Le fuggi! 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 Porca miseria! Che roba! Eh! 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 No miseria! Le fuggi! Le fuggi! Le fuggi! Le fuggi! Puzza di miele! Chi dentro! No! Però puzza di miele! Allora! Mi devo spustare! Con le gambe e così! Piegate! Perché se no! Vado a toccare la testa ante le tarantule! Eh! Una miseria! Eh! Il materiale che è cascato! Qui sicuramente era molto più alto all'interno! Però! Te l'ho detto! È venuto giù tutto! La sale e pioggia è tutto! È venuto giù la melma è tutto! Dopo si è alzato qui! Ora un po' un cucciuletto! Una lumachina! Una tarantula! Quante tarantule! Quante tarantule! Cos'è? Cos'è sta roba qui? Una piattola! Cos'è? È un sasso eh! Guarda un po' un bugio profondo! Eh! Ci vuole il coraggio mio! Bucca chi! Sa tutte queste tarantule! Perché è pericolose le tarantule? Eh! Luca! Sì! Certo! Certo che è pericolose! Eh! Perché? E poi rimbomba eh! C'è un agoggio sotto! Non è che ti escondi e trovi una inedita tomba mai esplorata fino ad ora piena di roba archeologica! Oppure c'è uno scrigno di diamanti e oro! Che tanto però dopo le devi consegnare ai carabinieri! Ah! Allora è inutile! Quindi è inutile! Eccolo qua che si arrampica su! Eh no! Che tarantula! Che tarantula! Ah! 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 Ma ha toccato la mano! Ma ha toccato la mano la tarantula! Ecco! Esce fuori! Esce fuori dai! L'ho fatta! Che l'ho fatta? Questa qui è...